Grazie per essere qua questa mattina con noi per il nostro primo caffè del giorno. Alessandro Saracino è il fondatore, amministratore, delegato e tutto di Crieri. Voi avete lanciato proprio in occasione di Vicenza Oro, questa edizione che stiamo vivendo, un nuovo brand, un brand nel brand, no? Poesia di Crieri. Quindi io ho già avuto modo un po' di provarlo e apprezzarlo molto. Adesso poi magari appunto mi racconti perché è nata e in che cosa si differenzia, magari va a completare un po' una strategia, un'operazione vostra. Un bracciale di un'unica misura per poter giocare sulle forme e i colori e l'abbiamo marchiato poesia. Con il colore, perciò Zaffiri Rubini, Zaffiri Colorati, siamo riusciti a stare su una fascia prezzo media sotto i 1000 euro. È un brand appena nato, vi posso garantire che siamo già a tappo sul budget di richieste che noi c'eravamo. E l'avete presentata qui, l'avete lanciata qua. L'abbiamo appena presentata, avevamo fatto una pre... Quindi parliamo sempre di bracciale tennis, di vere, giusto di fedine... Bracciale tennis, fedine, tutto un mondo classico però rivisto nei colori... Un po' di carature, quindi parliamo di... Intorno ai due carati massimo. Lavorerete con gli stessi punti vendita o andrete a prendere magari una... Assolutamente, la priorità viene data ai nostri circa 300 punti vendita, però abbiamo margine di crescita su altri due o trecento negozi. Circa il 70%, se non di più, del fatturato è fatto con un prodotto, quello che all'estero chiamano il hero product, il prodotto eroe, che è il bracciale tennis. Come si fa ad arrivare a puntare su un prodotto declinato solo in colori? Provo a fare un esempio che mi viene in mente in questo momento. Credo, non so, chi abbia inventato i jeans o chi dopo è riuscito a sviluppare il jeans in alta produzione. Sicuramente per un grosso periodo della sua avventura imprenditoriale si sia dovuto focalizzare sui jeans. Il paragone è perché il bracciale tennis è assolutamente il primo o tra i primi oggetti che vengono venduti nella gioielleria e che ancora hanno un bacino di desiderio di acquisto molto molto alto. Proprio perché quello che dicevamo prima, per un enterprise, cioè il prezzo d'entrata è sui 3.000 euro, voglio dire, non è poi così economico. Perciò c'è ancora tanta strada da fare sul bracciale tennis. Per chiudere ti chiedo una parola che per te è sinonimo di gioiello oggi. Beh, in questo momento mi viene facile poesia perché noi artigiani siamo un po' dei poeti e la parola per me più adatta in questo momento è poesia. Grazie mille Alessandro, adesso ci andiamo a bere un bel caffè perché direi di iniziare la giornata come si deve. Grazie, buona giornata.